Il mountain bike tra le colline e le aziende vitivinicole del territorio, la terza edizione di Controguerra Wine Bike, anche quest'anno è rimasta fedele alla filosofia di valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità e tradizioni. L'escursione cicloturistica guidata si inserisce all'interno del programma che ha visto il Comune Vibratiano aderire all'Associazione Nazionale Città del Vino, forte della sua vocazione e fama internazionale in ambito enologico. La nostra terza edizione della Controguerra Wine Bike, ne siamo veramente orgogliosi, fieri, è un percorso scisso in due fasi, un primo un po' più facile, quindi noi chiamiamo un percorso azzurro, un po' più complicato è il percorso rosso. Il percorso azzurro gli abbiamo dato il nome dell'Opisciarille perché c'è una fonte storica e quindi l'abbiamo caratterizzato con quel nome. E invece l'altro un po' più scosceso è quello che è il versante nord che guarda il tronto, quindi dove ci sono dei calanchi, l'abbiamo chiamato dei calanchi. È un bel percorso, soprattutto perché passiamo sul nostro territorio rurale, che io oso dire è un meraviglioso territorio rurale, quindi fatto di vigne, fatto di oliveti, ci si diverte e soprattutto tocchiamo tutte le nostre cantine che sono delle vere eccellenze sul nostro territorio. Quindi sarà sicuramente una giornata bella perché c'è il sole, ma anche molto molto interessante. Insomma il tutto alla riscoperta e alla valorizzazione del territorio con tutte le sue tradizioni enogastronomiche, culturali, un bel patrimonio. Sì, assolutamente. Noi ci freggiamo da essere città del vino, città dell'olio. Dall'anno scorso siamo anche città slow, quindi rete internazionale delle città del buon vivere. Ne siamo veramente orgogliosi di questi titoli che abbiamo e li vogliamo difendere.